Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qua con un opening molto particolare in collaborazione con jack store il miglior store per prodotti coreani se volete supportarmi e ottenere un minimo di sconto trovate il mio referral link e il mio codice sconto qua sotto in descrizione a questo giro mi hanno fornito un boxettino abbastanza interessante ovvero crimson crisis la reprint di un'espansione molto vecchia uscita da noi nel 2009 ma che comunque contiene tante carte fighissime da tenere sia in collezione ma soprattutto da giocare in edison un esempio maestro armatura la nera che tipo ultimate costa una sbrega di soldi drago totem che comunque da noi è stato reprintato com però qua è super gli do la forza magica suprema che anche quello sta una ventina e ovviamente arcidiamo in drago rosso assalto ghost ultimate e ultra ragazzi lo so che all'evento edison di konami non potete giocare le carte coreane però comunque ci sono tanti ragazzi che organizzano eventi dove ve le fanno usare quindi tranquilli in più vi serve così per busta e spende poco e poi ovviamente questa è roba che ti lascia i fils del 2009 adesso non so voi però io crimson crisis in italiano in prima edizione non lo sbusterei e probabilmente non me lo posso neanche permettere detto questo procediamo con l'unboxing ovviamente questi box rispetto a quelli nostri tgc hanno più bustine ne hanno 40 le nostre invece ne hanno 24 e quindi diciamo che da sbustaccia avete un boato di roba adesso è da vedere pull se sono uguali a quelli nostri e sperare ovviamente di trovare roba interessante a ovviamente dovrebbero esserci meno carte per pacchetto è se non sbaglio allora mamma mia ste carte non le sbustavo da tipo una vita e mezzo infatti nomi non li ricordo questo dovrebbe essere non lo so carta stardust che niente mamma mia quanti soldi ci ho buttato su queste bustine un boato probabilmente sperando di trovare l'agosto questo è il fratello suo c'è il terzo e poi il mostro che si può evocare con tutti e tre adesso se lo troviamo ve li faccio vedere cannonata nera ottima questa si gioca in edison quindi ottimo pull diciamo che da noi questa è uscita super quindi probabilmente qualcosa a rarità differente quindi forse dire che possiamo trovare l'agosto credo che ci sia più che altro non so le altre ido forse dovrebbe essere sempre secret ecco questo è il fratello loro e basta dai 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 adesso l'obiettivo sarebbe trovare almeno un playset di questa e adesso chiedere due maestro armatura la nera forse è troppo però anche quello ne potrebbe tornare utile perché non ce le ho e vorrei giocare blackwing sinceramente ovviamente spendere tipo 20 euro cad per il maestro smintato non è la mia ambizione più grande ecco lui è il coso che si evoca con tutti e tre allora andiamo col prossimo lui è una carta blackwing lui è un insetto enorme lui è un mostro sincro tuner e niente lui è un morfodronico comunque ragazzi a breve anche dacris morfodronico perché francesco si è inghamato un botto con quel mazzo ha trovato il supporto nuovo nella nell'espansione che abbiamo aperto settimana scorsa due list nexus e quindi niente è partito di testa allora poi vediamo ranna flip flop se non sbaglio e non la conosco e gladiatore qualcosa il problema di queste carte diciamo fondamentalmente è che se volete liberarvi delle common dovete scambiarle con gli amici perché su car market non c'è una vera e propria sezione per quanto riguarda le foil vi consiglio principalmente di metterle in lingua inglese poi in descrizione scrivere coreano in modo tale che la gente lo sappia e ragazzi non potete metterle allo stesso prezzo perché se no non ve le compreso ve le mettete a de meno e comunque così le piazzate questa è una carta psico penso questa è sempre al singolo pomodoro primo geniero questa me la ricordo e niente questa qui non ricordo il nome però da noi usciva ultra rara e ultimate quindi se i pool sono cambiati quali sono le ultime qua a questo punto anche maestro matura la nera potrebbe essere raro cosa molto positiva perché quindi la possibilità di trovarne due si alza allora carta blackwing non me lo ricordo insetto carta equipaggiamento e niente ancora sto schifo allora se non sbaglio dentro questi pack ci dovrebbe essere una ulti una secret 4 ultra poi le super dovrebbe avere lo stesso pool rate dei box giapponesi e poi adesso lo andremo a vedere insieme che non ne sono sicuro non voglio dire cazzate niente comunque ragazzi adesso non so voi ma a me mancano i box con le carte rare ok pacchetti come tama e queste robe qua però trovarli proprio da espansione peccato che l'hanno tolte allora poi adesso il mio grande sogno sarebbe vedere una carta di yugi col cosmo olo quindi konami se mi stai ascoltando probabilmente no perché sto aprendo un prodotto coreano e tu non sei d'accordo con questo ma io apro anche la roba giapponese quindi sti cazzi forse ho sbagliato questo era un morfodronico non era il terzo cosino che evoca il mostro perché non compri i rotoli di cosmo olo e fai un'altra incredibile realtà per yugi perché lì dopo le faccio i secondi a due mani che sto a spacchetta più di quanto spacchetto adesso adesso non dico che devi farlo in quelle tgc ma anche in quello cg in qualche set particolare mi obblighi dopo a fa buy out di tutti i prodotti che trovo in circolazione per completare i set è così che freghi collezionisti è non ti ci vuole tanto allora prossimo pack abbiamo carta morfodronico gale che anche questa non è male da giocare in edison poi abbiamo carta morfodronico carta arcanite e carta psi comunque cavolo il primo gale su non si sa quanti pacchetti allora comunque ragazzi le carte coreane sono proprio di vintage cioè io le sbustene solo per far così e probabilmente mi sto bruciando tutti i neuroni perché dovrebbe essere roba chimica vabbè dettaglio allora abbiamo carta morfodronico carta sei samurai lui non me lo ricordo carta equipaggiamento e una waifu quando ancora le waifu erano tristi adesso sono tutte belle felici pronte a prendere il cazzo qualcosa boh con i monarchi carta x a caso morfodronico la terreno morfodronica e che bellina allora io spero che uno dei formati che esploda prossimamente sia quello con i dragon ruler o quello con master shock giocabile perché sogno di giocare mac con ultima offerta e tirare triplo master shock per metterlo nel culo a tutti però staremo a vedere bora si adesso vediamo perché dicono che il prossimo formato a esplodere sarà quello con atto e la gente giocherà infernity e io avrò i filz del vietnam perché ho giocato quel mazzo e a me non ha mai girato una volta se non sbaglio persi alla summer cap alla finale buco nero tipo doppio pulmine voltax da lì ho smesso di giocarlo perché perdere contro un bambino in questo modo era un po' to match eh giocava poi lightsworm e quindi quando ti becchi i jd e sta roba capisci che la tua carriera da giocatore di inferni finisce lì allora o non abbiamo ancora pullato una roba decente siamo a mezzo box dai probabilmente le foglie saranno tutte dall'altra parte a questo punto allora abbiamo carta inutile carta inutile carta inutile e riavvio modalità assalto qualcosa del genere che ti faceva evocare lui enorme allora vediamo proviamo a tirare fuori qualcosa 1 2 3 apprendista arcano ragazzi probabilmente sto sbagliando tutti i nomi eh sono abbastanza convinto di questo però allora abbiamo la spada storta e la waifu infelice roba psico roba sei samurai che bello perché trovia tra tutte le ultime proprio quella sfigata mago di arcanite assalto è sempre bello sbustare ulti penso che non ne sbustavo una da no ho aperto cross quindi c'erano le ulti però è sempre bello sbustarla soprattutto col vecchio layout perché quelle nuove hanno tipo l'ultimità anche sul bordino nero e sono fatte proprio bene perché da noi la stampa fa schifo in corea o le fanno ancora bene ragazzi vi dico ero convinto non ci fosse niente dentro il box però diciamo tocca che mi ricredo andiamo qua con le prossime cose vediamo supporto supporto vecchio gladiatore bestia cosa inutile e quella che volevo mamma mia maestro armatura la nera no ragazzi senza senza senso senza senso mamma mia quanto quanto godo quanto che cazzo me ne frega delle altre mamma mia se adesso esce pure ido sborro sborro veramente male quindi ogni box ha due ultimate e vabbè niente gg il nostro l'abbiamo fatto potevamo aprire una colonna e vendere il resto può darsi allora a questo punto toh tre su tre fammi uscire un'altra ulti anche se è impossibile più probabile la secret o la prima super spadaccino delle rose se non sbaglio bene dai adesso tanto usciranno le ultra la secret e tutto il resto allora carta a caso carta a caso carta a caso messa anche qua la folla sì le foil sono leggermente più imbarcate questo era si mk2 ragazzi il bello del box è arrivato adesso adesso da gusto sbustare poi ho visto che sullo story i box vengono 35 euro cioè alla fine ci sta a buttarli per divertirsi a sbustare anche questa era forte all'epoca perché tipo non so se tributavi un mosso tributavi lui infliggevi 200 per il livello una roba del genere è stata pure bandita e vabbè poi è stata sbannata e gli hanno modificato l'effetto ma se l'ha giocata nei retro format l'effetto è quello originale ho visto un synchro ho visto un synchro potrebbe essere de tutto potrei sborrare veramente ragazzi mi sa che è mi sa che è una ultra dai non ci credo ragazzi sia ultra che ultimate no no ragazzi ragazzi un box insensato allora vi dico per 30 euro 35 non mi ricordo vi divertite un botto e e ci avete roba carina da tenere sull'album o da giocare vabbè poi ovviamente non ci hanno solo questo di box ci hanno anche tlm roba più vintage roba più nuova roba di rush duel quindi ce n'è per tutti i gusti più che altro non è uscito ancora ido che sarebbe bellino e drago totem che dovrebbe essere super quindi quello non sarebbe male da tirare fuori come altra super onesta allora terreno morfotronico carta a caso carta a caso carta a caso no ragazzi c'è mi poteva andare bene il box ma cavolo pure arcidemone drago rosso assalto vabbè ragazzi se qua dentro c'è pure la ghost cioè ho svoltato il pack opening no ragazzi è vi giuro è tanto divertente in più se ne comprate due di box non pagate neanche la speciale ma che cazzo ve ne frega così per cazzeggiare con gli amici dai su tiriamo fuori la roba buona ma che parlo di droga però cazzo si per me yugio è una droga questo è eh vattelo a ricordare abbiamo come super distruttore psico che da non usciva ultra e ultimate quindi vi dirò cioè nel senso per un secondo ho pensato a un terzo maestro maturale nera il lippario ragazzi svoltavo ho detto che ne volevo due da giocare perfetto non mi posso recriminare assolutamente niente allora e niente qua non c'è niente prossimo pack arcidemone drago rosso assalto e roba ninja sei samurai qua non ci dovrebbe essere niente cioè si nota subito la carta leggermente imbarcata e foil questo è tipo catastro poi abbiamo lampalude degli insetti gale che è sempre buono roba a caso e niente dai voglio voglio anche la secret secret ghost e io torno a casa contento come una pasqua anche se sono già a caso cosa a caso cosa a caso sbora e carta morfodronica carta morfodronico dai su rimangono cinque pack ragazzi la prossima volta ci abbiamo tlm lì dentro ci può essere golem ingranaggio antico ultimate e se esce io sborro io veramente sborro perché una carta senza senso totalmente incredibile ragazzi uuuu drago delle macerie ottima e anche come rare non ci sta andando male allora prossimo abbiamo arcidemone drago rosso carta sei samurai cose a caso e niente dai 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 su che manca ancora la secret adesso non vorrei che mai mi hanno scammato e mi hanno dato due ulti e no la secret perché cazzo ido è comunque ido eh no questo è tipo riduzione del livello una roba del genere dai 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 comunque i box nuovi non ve li danno si fizzere soprattutto se giocate da vent'anni allora uh qua ci potrebbe essere qualcosa sembrava mezza imbarcata due pack mi sa che abbiamo beccato la doppia ulti e la secret non c'è mi sa che mi tocca mettere il cuore in pace bora questa mettiamola qua carta di arcanite carta polvere e niente ultimo pack e niente mettiamoci il cuore in pace guardate eh tanto non c'è niente o uno o niente drago delle macerie che comunque nel senso abbiamo beccato la doppia ulti e noi abbiamo beccato la secret però nel senso ci rendiamo conto di cosa ho beccato abbiamo beccato due ultimate di cui una incredibile maestro armatura la nera poi due ultra che fumano non vorrei smintarle grazie che gli fumano i coglioni abbiamo il secondo maestro armatura la nera e archivio bandrago rosso assalto e poi tra le super boh roba mezza onesta questi due carini da poter giocare queste ci faccio poca roba nel senso al massimo questo se c'è qualche mazzo pianta che lo gioca beh dai alla fine non posso assolutamente lamentarmi perché ho trovato della roba incredibile sarebbe stato bellino trovare Ido e la Gosta in primis poi anche il drago totem però nel senso accetto i due maestro armatura la nera e l'assalto ultra detto questo ragazzi vi rinnovo l'invito a passare sul loro store tramite il mio link qua sotto in descrizione per supportarmi e qua sotto ho scritto anche il codice sconto per risparmiare il 5% detto questo ragazzi state me easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti